signori buongiorno a tutti e benvenuti nel dodicesimo video della scalata del conto da 200 dollari sono le ore 11 e mezza ci siamo aperti un trade questa notte ad apertura di mercato ci ha sfiorato il take profit e ci ha preso lo stop loss per ora non abbiamo alcun trade aperto non so se ne aprirò oggi all'inizio non volevo tradare completamente se ci dovesse essere un'opportunità entreremo e vi aggiornerò comunque il trade di questa notte mi ha fatto perdere l'un per cento quindi due euro vediamo se riusciamo a recuperarlo se non ci teniamo questo tanto non è un problema volevo dirvi domani dopo domani e domani ancora dopo domani non usciranno video io non traderò nella maniera più assoluta perché sarò fuori devo andare in nord italia per fare una cosa e niente soltanto questo signori quindi non usciranno video per i prossimi tre giorni è soltanto questo aspettiamo un po e vediamo un po e vediamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre il primo giorno della terza settimana con un più 3% e il secondo giorno della terza settimana, ovvero oggi, con un meno 2.5%, per un totale del più 24.5% di profitto, ovvero 49€. Signori, allora, non possiamo minimamente lamentarci, i giorni di perdita qualche volta capitano, è normalissimo che capiteranno, non saranno gli unici. Come si suol dire, il stop loss è il prezzo da pagare per fare i trader. Niente, signori, noi siamo sempre bilanciati, sempre calmi, aspettando il momento giusto. Siamo appena partiti, come potete ben vedere. E niente, signori, noi ci vediamo venerdì per il prossimo appuntamento di questa scalata. Ciao ragazzi.